eccoci bella raga dopo tanto tempo siamo tornati sulle live allora adesso salto tutto metto la musica metto tutto datemi tutti un secondo qua live streaming vediamo se iniziamo ci metti moderatore aspegno come ti chiami su youtube gesto aiuti di schermi e youtube facciamo a parte la musica magari più bassa cambiamo la miniatura youtube come dicando iniziate con abbassare la voce metti chiami finito a posti come che il ciclo ecco qua non sono stati ma se tosse ti chiami così su youtube blast e tosse non si vede molto bene si 720 cambia miniatura alla famiglia bossa rivoluzione di minecraft che è entrato per amore in un terreno privata ma non ha regalati sto facendo infatti che altro perché chi ha preso il caccio abriamo in live se cazzo adesso non andiamo in colpivato ma è deciso cioè il cioe le robe c'è già cose esci black siamo in live scusate mio cugino potreste abbassare i volumi del microfono io no no un po tutti e due ragazzi del cibo cosa avete del cibo no ti pare ti sembra uno che ha del cibo scusate scusate ce l'ho fatto un po non c'è un uomo non c'è un uomo non c'è un uomo io non lo so io metto spotify perchè già l'ho messo stavolta un po' troppo a siti tutti i due in live no solo abbiamo un canale insieme quindi se lui va in live io recco video capito intanto intanto inizio a mettere la registrazione così magari facciamo gli stream lights ho già l'ho già e proprio passami e passami il tuo il vostro lobo il vostro canale canale ma ci passate milano ai passati migliori qui su skype guarda solo perchè non si può spammare sui pixel ccdc vanno ccdc ottimo tono tim per te per te dopo tanto tempo sono tornato ad avere la schiena la paperella che che svegli cazzo stati non lo so neanche trovano che perché c'era una strana che volava se vieni da me non lo so ragazzi cazzo stati cercheremo di fare degli expose del live grazie per la crafting pernessione migliore fai zitta un enemi si cazzi una cave non lo so sono da un enemy adesso li fottiamo tutta la cave ma la bella bella dati mi ricordi no 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 io me ne vado questo colo stronzoni in merda col cazzo piccolo darti mi cerca di allora certo esistra bussola per bagno è vero basti che vale scavacci sotto tempi no 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 vedeaci di cui perché poi se sottra una cave in cli il chernio io ma siete andati tutti in dritti no no non so neanche dove sono andato sa seconda rina 1 non lo so dove mi sta portando ditemi solamente le coordinate tra l'altro noi a questo è già fu il ferro vabbè scappava blast e ma che non scrive una cosa sia parte che c'è un full ferro vicino però mi prego una che è una che è una che la gana che i libri vini qui vieni con me non andrei qui non andare qui ho scritto la cosa cosa vuol dire in cinque libri più idiota ma cosa vorrebbe di no dai di me che soldi ma che rosa fare il live ma prima non andar di buono passate la voce perché pomeriggio la gente dorme che è alta che dite intanto ci abbiamo uno spettatore uno spettatore si è sempre un luci il nostro picco massimo tipo 10 11 quanti iscritti avete 36 ho scelto trovato una che allora io vorrei sponsorizzare anche se dovrebbe fare il contrario a lui perchè noi c'è una verona giusto di lui no 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 raga lo youtube che gli sto facendo la texter e gli ho detto di sponsorizzarlo no raga io qui non ho a ecco te l'ho detto allora che la sponsorizzazione raga c'è tu scombo male ecco di fare un italiano in più da uccidere ciao da un cd in più ma tu fai a caso mi sto dire a ecco ti io ho trovato una che devo prova entrare in questa che della tua vita è completamente finita io mi scavo su me finita e te lo dico ti metto la lava sottipiedi che stai bruvi non ti vedo più il pacco che sto usando è il pacco non mi ricordo come si chiama però è di paliccai di tight di tutti e due ognuno mi pare abbia la sua versione sono tutti e due uguali l'ho uno sponer ma ciao zonbini ma quanto siete puccio setti ecco scelta il fatto nostro mai aspetta che mi voglio io sbaglio eccolo ciao zonbini ok questo tutto questo per una se due secchi una sella come il pvp già ma che cazzo raga ma 5 di ferro raga 5 minuti abbiamo già sentato in cosa di per settare la live gioco di gravità da nulla no io ci ho messo due secondi a starla la live la prima si prendono la sisa il list no si sono scelto prendo la playlist a pro bs e ho fatto peccato ragazzi niente lava salvami a cazzo è vero c'è il danno merda fatto una stronzata fatto una stronzata zio pensavo che non ci fosse sono un cogliono donna santa vabbè 33 cuori buono ragazzi non ce l'ho manco per metro adesso lasciato lo spettacolo e aspetta ok a me me ne serve solo un altro diamanti senza lo scala di bravo scopo io ho fatto una stronzata pensando che la lava e pensando di avere ancora la lavare assistenza la fire resiste perché io 31 di ferro e non 32 gesù me lo spieghi tu eccolo qua lungo di farlo che lo scopo non trovo mai hai sentito cosa ragno no ma in soft credo ho sentito ragni si vieni versi ma è velenoso se si scappa non lo so se mai c'è possibile ecco sentito ancora dove cazzo sto poi mi casca da me e io sto arrivando siamo 30 milioni a brumi puoi dare un po di cose me lo puoi anche fare anche a me cosa come fai te come fai fanno me lo spieghi la cosa sì per farti più velocemente full iron a mette il carbone al centro il farlo tutto attorno sempre se la sblocca non mi va è perché non l'hai sbloccato forse ai vero era con l'altro account non l'avevo sbloccato possibile con questo cuore sbloccato anche se c'è giocci e qui vieni qui bro vieni qui e senti si sento un casino io di di rovi di rumori ma non credo che sono qui ecco sì ha ragione ho ragione ma sono velenosi o no non credo all'attro a charlie putt io non so dove sei che riesco ma è velenoso no non è velenoso di culo e non era vero non senti morì un bestemmia ho pochissimi visual facevi farlo ho pochissimi cuori mi deve essere aiutarmi io se trovo quattro di oro ti posso farlo l'ai tempo ma niente di che siamo affronta blocchi e non volevo fare la stronzata che ha fatto di buttarmi dentro la mano sono sta veramente un coglione voi avete più cuori di me io c'ho solamente pochissimi cuori e io sto salendo 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 arrivo quanti soli che stai un pochino raga la vera d'otto io sono uscito da quello che la cara che ha appena dottato di dio ma bene gg io vorrei tanto venire da te però vieni se devo scalare la montagna per prendere un secchio d'acqua uno suicidativo ma non fa ancora sono pregaduto raga ho trovato anche lo sai dove si è salito passi vabbè non dici scusa mi aspetta mi aspetta mi cazzo pure il lapis ho trovato il progetto da dove mi sta colpendo chi uno scheletro ma non mi ha preso neanche l'acqua raga vabbè sto cacciato raga sono morto io credo raga questo è un pochissimi cuori guardo quanti disastrosi che mi butto nella la come un coglione l'acqua che non mi si prende resta stiamo sì mi so tanto che resta stiamo no va finiamo sto a cacci dopo se perdiamo le liste tanto è ovvio che perdiamo guarda quanti quali c'abbiamo ma ragazzi ti si ridui cazzo stato adesso io sto andando da rina 1 che è morto non sono morto però che cazzo è che l'acqua non si piace ma arrivo sul culo ecco resta stiamo dai dai che lo chicco però non fanno scemo coso brandimo da soli andiamo da soli giro due che chi ti chiami non fa lo sciolo come se non fare lo sciolo e non ho fatto un cazzo io aderevo che tanto qua ci aiuta orli come un pazzo orla senti fana skywars ancora uno spettatore non c'è tanto brudami il tuo robo spammo no 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 perchè poi non ha detto un canale non ha detto no 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 perchè non sono io il capo lo sapete già l'ha saltata fa io sono team random ok erano giusto andiamo qua la 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 stream è ancora e ancora e ancora come cazzo si dice bloccato no è bloccato sia o no 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 ok ci sei ci stanno ancora ascoltando sì quella non è l'unica persona che ci sto ascoltando che penso sia lì no ci sono no non sono io non sto aspettando un cazzo io a me me dice una nevo beh non sono io questo che cazzina come prende che cazzina come d'ansia vai scende scende merda scende ecco ci so scende merda ciao scende scende sì che cazzo fai c'è la scala qua preso godo pregheppolo vado nelle isola riprendere il il sito ci vuoi muori fa culo fa culo fa culo che c'aveva questo in tanto interessante un cazzo c'è tutto quello che c'aveva lui c'erano pure io x2 x2 ma che cazzo non ho fatto ma però se l'hanno fatto si è che l'ho fatto apposta che merda non l'ho fatto apposta tu no apposta è vicino me è vicino a me è vicino a me è vicino a me poverino che carina la miniatura effettivamente è vero uno spettato quanti spettatori già non potete vedere quanti ci sono le persone che si stanno guardando chiamate anche spettatori io ci vado di ascia sti pazzi la cia prende mezzo blocco sì 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 se non un intero sei già non rifillato che cazzo è la modalità rush non soggile a 30 secondi rifiutano la torta aspetta che il vestito non c'è solo nel metto in dia che katana adesso c'è pure un corpetto perché l'olio non sto lagando a partire ciao rina 1 ma non c'è chi cazzo è sto cinese ho chiesto cinese devo che lo mando via con l'occhio no che cazzo fai io non ho po se una merda se una merda vaffanculo mori fai schifo lo mando via con il not back 3 città città guarda adesso non è stato il portico ora come muore guarda come muore blascotta vai prenditi le fritte vai vai scarso vai uccidilo ecco dai bravo la che morì morì fuori post fuori col vestito non è capito c'è proprio c'è vestita c'è l'ho fatto per te sul vestito ma le hc esistono non mi chiamerò il vestito adesso non mi chiamerò la cale da un uomo in calma do sì lo so non abbiamo avuto se qual è il problema di ieri è durata otto ore ma che cazzo non sei una puntata basta io la storia parte lo faccio io il forte sentendo muovere da nino lì lì ave e fammi il forte però sono prima cresciuto e raga io entro con fatto con il mio vero account non mi sta sul caccio con la nuova entro le lascio mark x g perché la sì che sono messo bene aspetta prima di fare i posti dopo spostato raggi ma cambia metti la foto su skype ecco ci sono fammi il portico mi porti con ci chiamiamo la soffi un po' un po' mai trattino basso x trattino basso g e g il cazzo di non g ma c'è come cattosi eccomi clicco non è entrato mark mark sono io cambio skin ma fanculo perché il metto raga quella che ti pare basta che non mettono ma dopo raga sposto la live su rainbow six non è che mi potresti fare una miniatura di rainbow velocemente blast che dopo mia voglio giocare a rainbow six mi ha scritto è access che ti ho detto è access che mi ha scritto è accesso 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 l'ha scritto l'ha venduto con l'account non è un nome secondo me lei l'ha venduto e ci ha fatto qualche soldo non ritorno subito ma io lo so che io c'ho l'anzio che il capo dei carabinieri quindi le faccio lui gli entro delle carabinieri in casa ma comunque hai fatto male ha fatto male comunque tua dall'italiano game io non gli ho mica dato del posto di sicurezza se io le dote di no non glielo date realizzi che cazzo è realizzare il film pari ora che sono ricrasciato bella ragazzi va bene la facciamo con realizz ma raga no 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 sto per entrare in tronco sono ancora nel party si siamo a 92 però vabbè io sono sempre nella partita si muoveremo falla con uno che è youtuber e che è 6 stelle la vita quindi niente no no bruno ma tanto non l'accetta sto cazzo dopo se non l'accetta siete voi nella merda dopo se vi trovate uno stronzo di merda in team dai 30 secondi c'hai mark ce la faccio eccomi ai pixel sono dentro sono dentro mentre entra nell'uhc sono dentro sono da giocare anch'io dopo si team in vita e marchi se non me lo fa in vita come non sono il leader rino 1 invitano obiettivo non sono il leader del ponte invite ma siete ancora su quel canale live si mi dice che devo eh ma beh rip ma il live è tosti dai ratti la raga no la facciamo con un altro zio no raga raga ci sono ci sono ci sono ci sono fatti 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 lo facciamo con un otto stelle si chiamare è questo qua che con noi ma raga 7 degli stronzi allora ho una testa una testa siamo tranquilli lasciam ah no ecco l'orelli sono dietro di lì senti stai zittora andiamo si ti voglio bene perché sono uno steve ora c'è invitato rinno e allora invita mezzurino 1 mi puoi invitare anche raga mi potete invitare e please si chiamano città 3 hai capito no eh ecco 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 ora così ecco e ecco back si chiesa come lo catturato a carriera anche sei io no 3 i chiara interiore essere tibacca era la risultata di rinchiere fatemi avviare io non so chiudere un ferro io sono il sito c'è il regalo dovrei essere in ciumi lecce in boston vini sempre primi rubi sempre posto che cazzo ti voglio fare siamo in live dai relici de merda scherzo scherzo che voglio bene si chiama skin relics perché prima in lab non avevi la schiena che fanno cagare il capo e intanto storia prendendo minecraft adesso si mi trovo da solo bestemmia oppure conoscete vale con lo youtube non è giudicato vai si è baccata non è vero la roba del portale dell'ep se non lo so se l'hanno non lo so cioè quando la pratica al portale dell'epa come nella immagine perchè lo stanno cambiando comunque mi dispiace se è una cosa decente mi piace se si è bloccata mi si piace se si è bloccata la stream solo che però lui c'ha la sua privazione di bimbi no non è tanto la privazione di bimbi è il fatto che c'è il computer bello con le prestazioni abbastanza alte ma che fa cagare l'epoca 500 euro e poi c'è giù 500 euro di pc io mi muore un po' il 2.000 anch'io ma io 2.000 ripostazione ero io metto a mille e trecento da c'è il giugno c'è da schermi realizzo c'è da schermi no piastro a un amato io ho periodo appiccicato il telefono vuoi sapere io per leggeri commenti ho appiccicato il telefono al muro c'è un capo di genio si si l'ho appiccicato alla lampada dunque praticamente ho messo l'ho messo su oh mi sono ritrovato a casa questo bastone di selfie l'ho messo sul bastone di selfie l'ho incastrato nella lampada e moce l'ho vicino non c'è ma che cacchio quando sei povero e non ti puoi comprare il secondo schermo ma devi trovare delle comunque tipo l'unica c'è la cosa migliore del mio pc è intel core i7 4400 c'è 7 scusa 7700k ma l'ombra un applauso la md della md riccone di merda un applauso capisco il cazzo però e pensa che ha tipo 2 animi si chiama jerry lolly così tipo a 2 mi prendi un po mi prendi sei di cose sei di coble per un pagrattino modo pisciare madonna santa su costa coble dai in attimo io piccoli legno mi cacciano inefficienza 3 cazzo maicomoto 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 come cazzo fa essere morto il po 38 cioè 15 maicomoto maicomoto sto io non sono e se mettono allo su skype live esparmala su skype che cazzo devo dire ah dai oh un po lo ciao po lo ti voglio bene dammi un braccio l'argetto anche alla fine ho sai come ho risolto quel problema cosa di noto non trovo a tabicard come ho fatto da telefono ma qual è quella cosa non sono un robot si era perché da computer si paga tutto a me e tipo di schiacciare robe mi fa vedere il p e poi dopo un po scompare mai che si chiamava era capo 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 poi ti dice guarda questo codice cosa leggi ea volte io mi sguercio per capire che cazzo c'è scritto perché 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 tipo il robot un guardano l'immagine allora metti direttamente una scritta che si capisca no no mettiamo una scritta che c'è scritto gesù e bello fai però non si legge perché scritto in in aramaico antico si capisce proprio niente poi e poi ti dice poi io inserisco il codice un cazzo perchè mi dici che sbagliato di barca acquetti barco abbassa quella voce da gallina ma basta con la voce da gallina queste con le riempie il bimbo è diventato la leggenda bimbo ma è quanto saluta al porto ma quel c***o resta l'antario che fino a fatto mostro e mi ciccina raga mi sta chiaro con tutto il rispetto per lui la salva mi tu stavolta però davvero no a roma di una cosa è che il bimbo che ha detto questo lavoro c'è gallina dopo il video ti sa più che figli e mi fa questa cosa ma poi il valore che i genitori di fare video probabilmente c'è qualcosa no era un bimbo che lo fa bimbo dai c'aveva la barba tra un po' cosa ma che era stato un anno più piccolo di me sì vabbè ma zio c'aveva la barba contro un po' questo è un 2004 no no zio avete trattato che io immagino un 16 anni cazzo odio quel ciuffo d'erba quello mi sembrava un creeper infatti già sto incazzato nella scorsa che non ho trovato proprio niente di aero no infatti io sono pure morto dalla lava dimenticatevi vado a strip ma inore dimenticatevi tutti quel momento perché è stato molto imbarazzante guarda sshh niente dai io ho uno stack di aero non trovo carbone ma io ho messo uno stack di aero esce un pieno di carbone ok allora dammi la metà dammi la metà basta che vieni da me vorrei trovare diamanti i x rini nella mia testa fammi trovare diamanti ho trovato a livello uuuuh ah ma qua c'è un canyon è il mio non si entra prova ad entrare e muori direttamente proprio entri e schiatti male ritorno c'è il mio ora c'è il mio tisciolò lega io do piscano i potro a capo questo percattol 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 vai trovato cibo pochettol devo usare provato da p e percotto ma questo c'è andato qualcuno però ecco percatti in queste giorni sto cercando di imparare del ninja abrigo la che ti shifti e lasciano si quando fai il ponte di presente lascia la shift di scipita sulla scelta di scipita post fa spinta è che bello nella live si viene intera lo scarico sì quale scarico quello del mio cesso tra l'altro un cesso molto svegli per quelli che sono accesso fili però fortuna sono i pedofili i feticisti che ci sono i cesso fili apaccia la casa bruttissima prevedo mouse l'ha capito per al comune sta guarda via un po il mouse su testo sando ora è morto comunque vi dico anche se non può handicapato cronico vuol dire che mi c'è l'ora è perché mi sono appena si dice dispressi a caro mio io io mi sono sveglia dalle domenica ma io sono andata la musica quante altre sono stata letto alle 5 e anche io no io le guardo e sono solo ma eccolo il tuo tunnel ma è bello che io guardo il tuo tunnel e sotto c'è del carbone perché non lo trovavi serio lo giuro e' la rio e' la chiusa internet wow sono una persona molto intelligente dai se non può acqua siti tutti no sali però che mi fermo il porto testa l'acqua trota i pd no tanto il carbone lo gioco la persona non serve edo dell'oro e' un peggio prendiamoci la nostra playlist list la playlist eccola qua la playlist non lo faccio ripartire da campo la playlist list 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 anzi a metto una musica tipo never forget you i never forget you io l'ho fatto il gamba ma la via la prossima anno quest'anno di xfactor prego se non ci sono tutti la idea è mai bello e vogliamo tutti sentire la tua voce in questo momento ormai ciao no 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 carazzara larsson devo alzarti un po' il volume ecco la razza è quella di parissima venga ho troppe carne 3 respira ma con pochettino anche se in questo momento non l'avano però non solo provo di capo che sia una gente parente io non faccio di parlo c'è perché mi sono riusciti mi troppo quindi ero sopporto su questo scambio ha usato il legno io se mi chiedete il legno per le pie box non ne ho perché l'ho usato per uscire si sono un coglione non per il pericolo e pericolo e pericolo e pericolo e pericolo tricomigliere per ripriti che è la mia mappostura del mio spesso polo parola no io il pietro non panno quindi mi compro tipo lo sposo troppo riccaretta se le questioni di il bo e 3 non ha preso le piume o momo che genio ma è più che io il kit al massimo non mi fermo sei zitta a fa io so felice davvero saresti su stock count quante stelle saresti su stock 4 ormai 5 4 vabbè diciamo che è che sei 13 stile perchè 13 il sito perchè si è perchè no è appunto 12 il pod utile dota la finestra il rispondo perché se ci sono perchè no era caldo o matti nuovi che io sono solo un quarto in iron come un quarto in armi di te e io sto aspettando su di ai dove c'è stato tutto sto tempo e c'è giù mio ma io sono fuori sono full iron a uno stack e 28 di 3 i plus io sì io sono a livello 48 io non sta che 28 di free cazzo animi bravo neplante ciao zio ma no 25 blocchi rovati io ho specchio dai ti muovi da veramente blocco solo a livello eccolo eccolo 14 a te vuoi l'iron e no che vuole è almeno solamente un eccolo rino 1 2 quanto ai donai 11 la posta che non in la posta che si chiama un suo iron a me lo so sei zitto che non mi serve me no dai veramente se non mi faccio pure iron no ragazzo spolato sotto un albero si lo so ahahahahah godo dai ragazzi stai ancora voglio due di aerofotto voglio due di aerofotto perché ci va spaventare griffiamo il server oh mi date 3d di ferrogretto non ne ho scusa io e rino andiamo avanti dai vado a farvi più con la spada in pietro comunque molte persone si chiederanno perché i blaster non è con il suo primo account perché li hanno rubato ok bello e sappiamo anche chi li ha rubato ma per i passi non lo diciamo in verità si è zitto ma perché non hai pantaloni io perché non ho e tieni l'aero tieni l'aero tieni qua no 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 fu l'aero che ne ho dati undici così ti accontenti e non riempi il cazzo ok sto morto scappi ok ma come raga enemy enemy ce l'ho io dietro ma sta facendo la trap sta arrivando mammi dietro e sono senza pantaloni bagnotta piccolino ahahah ti stupro oh ma frecciato sto stronzo eh adesso ti stupro adesso ti stupro ma sono in due si stupro adesso ti stupro no guarda sono andato no ora ho ready video ora è di te immediatamente il video non ci credo sei cattuto in una trap no vedrai cosa fa no dai dimmi che cosa è successo fai una curva fai una curva u e torna indietro hai fatto una sconciata zio vai fammi craftare non fa tardi eh ho capito che ristudio quello mi fa 67 hit stanno arrivando eh siete morti no non ci credo quanto ha questo 22 ancora cazzo cazzo che cazzo ditte tira il mio non lo so oh aiutami aiutami l'altro 17 mi ha 17 come cazzo si chiama Timmy ah merda ho fatto una cazzata in male zio 19 il mio 17 io il mio l'ho combattuto un pochettino ma li sono morto sei morto penso di si guarda c'ha 6 quant'avete c'ha 3 l'ho ucciso zio l'ho ucciso l'ho ucciso e appena poi edamela sta raggando merda è data quanto ha il mio eh sopra non frecciarlo ma non ha se l'ho recitato quello lì arrivo frecciola frecciola quanto ho io dici io ho 13 il cittadino il mio io io sto dietro ce ne scappa 8 8 mio e dai connetti le sono rec recitato malissimo eh io l'altro madonna zio che che roba che abbiamo fatto questa è la musica che mi mette la mia fa un po' cagare però vabbè continua a rilire ogni volta mi hai shottato madonna che pro che so quanto? 7 quanto 4 7 7 7 7 7 guardalo che è minchia è in 2 io sto dietro i tuoi pantaloni oh 73 blocchi oh c'ha 5 zio oh no ma li ho tirato uno shot dove cazzo sei andato? nel buchetto nel buchetto nel buchetto nel buchetto qua qua zio si è scopato un buchetto il figlio di troia qui 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 ma io sono andicappato vieni qua si è scopato un buchetto sto stronzo vai continua a scendere che palle o fanculo ma ho fatto neanche merda 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 sono coglione zio merda merda ecco vaffanculo ha fatto una trappola da figlio di puttana dai va a fare in culo dai che comunque il compagno è proprio una merda è proprio Ez no anche questo eh questo me lo so arrestato malissimo di arco chi è qui il capo del dell'oggi non lo so io forse vado su rainbow no dai no vado su rainbow zio rila live eh la live si sposta su rainbow anzi aspetta la devo chiudere la live ciao raga mi credo devo fare una cosa devo fare una cosa importante mi dispiace per questo live sempre corto però quello col figlio di puttana ci ho fatto trap lo sapevo se trovi certo gioco con tarina va bene lord becky t'ha scritto no infatti lui gioca con star crazy ciao raga si lord star crazy